Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Pier Silvio Berlusconi avrebbe preso negli ultimi giorni un'inaspettata decisione, via da Mediaset tra un anno, cos'è emerso? Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, per l'inizio della stagione televisiva 2023 fratto 2024, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato una serie di importanti novità. Tra le notizie che più hanno fatto parlare c'è quella che riguarda Barbara D'Urso. Ha infatti deciso di sostituirla a Pomeriggio 5, con Mirta Merlino, lasciando, di fatto, il pubblico a bocca aperta. L'amministratore delegato ha poi proposto a Bianca Berlinguer di lasciare la RAI e di approdare nella sua azienda, dove attualmente lavora. Ebbene, sono tante le novità che negli ultimi tempi ha messo in atto e a quanto pare, nelle ultime ore, è arrivata un'indiscrezione che parla di un'altra decisione di Pier Silvio presa proprio in questi giorni. Pier Silvio Berlusconi. La decisione che nessuno si aspettava, cosa succederà tra un anno. Pier Silvio Berlusconi negli ultimi mesi ha fatto tante scelte per la sua azienda. Sono stati introdotti parecchi cambiamenti e ci sono stati diverse uscite di scena. Negli ultimi giorni, come riporta Alessandro Rosica, che sui social si fa chiamare l'investigatore social, sembrerebbe che abbia preso una doppia decisione che riguarda il grande fratello. La proposta sarebbe arrivata in seguito al comportamento di alcuni concorrenti nei confronti di Beatrice Luzzi. L'attrice ha lasciato il reality dopo la scomparsa di suo padre. Quando la notizia è arrivata in casa, qualcuno si è mostrato poco comprensivo, non avendo rispetto per la sua perdita. Sembrerebbe, dopo che molti utenti sui social hanno espresso malcontento per la situazione, che verranno presi dei provvedimenti disciplinari, ci dovrebbe essere un televoto che deciderà il futuro di alcuni concorrenti. Inoltre, Rosica fa sapere che al 90% Alfonso Signorini non sarà al timone il prossimo anno. Sarebbe, questa, infatti la scelta presa dall'amministratore delegato Mediaset. Dopo quanto successo nella presente edizione e dopo il caos della precedente, Pier Silvio avrebbe optato per questa importante presa di posizione. Ovviamente, al momento si tratta soltanto di indiscrezioni e non c'è nulla di ufficiale. La verità verrà a galla soltanto nei prossimi mesi, quando si comincerà a parlare della nuova edizione. È sicuro, però, che adesso arrivino dei provvedimenti, dato che lo stesso Alfonso su social aveva espresso disappunto per il comportamento in casa. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.